buongiorno ciao ragazzi oggi siamo qui con un nuovo video scusate se non carico video da tempo però ho avuto dei problemi scusate oggi vi andrò a far vedere l'arlock 18 è parecchio bello sortere e questo non è carico E' un po' di più. Questo è il corpo singolo. Ecco, l'abbiamo già finito. Vabbè, comunque vai. Questo invece è il corpo raffia. Listo? L'abbiamo finito. Questa è la maniola che poi prossimamente porterò altri filmati. E quindi niente. Bello.